Molti di voi hanno menzionato la blockchain di Polygon sotto i miei ultimi video, quindi parliamone. Quando create una collezione di NFT su OpenSea avete la possibilità di scegliere se creare e depositare queste NFT sia su Ethereum che su Polygon e lo stesso potete farlo anche quando create uno smart contract proprietario e decidete se depositare questo contratto sulla blockchain di Ethereum o sulla blockchain di Polygon. Questa è una decisione molto importante e prendere quella sbagliata potrebbe distruggere la vostra collezione ancora prima di iniziare. Io sono Tommaso Branchi e in questo video vedremo le differenze tra la blockchain di Ethereum e la blockchain di Polygon su OpenSea, ma non solo. E per la fine di questo video avrai tutte le informazioni necessarie per prendere la giusta decisione per il tuo caso specifico. Quindi vediamo cosa diavolo sono Polygon ed Ethereum, Poi vedremo i pro e i contro di ognuno di loro se volessimo creare la collezione su OpenSea, ma anche i pro e i contro se volessimo creare uno smart contract proprietario su Ethereum o su Polygon. Per prima cosa che diamine sono Ethereum e Polygon? Iniziamo dalla più conosciuta, Ethereum. Ethereum è una blockchain e molto semplicemente quando un NFT viene mintato, viene salvato sulla blockchain di appartenenza e quella più utilizzata per fare questo è sicuramente Ethereum. Ogni volta che una transazione avviene sulla blockchain di Ethereum, che questa sia il mint di un NFT o magari una sua rivendita, questa transazione deve essere approvata. Approvare una transazione costa energia e se stai utilizzando la blockchain di Ethereum, pagherai questa energia sotto forma di gas. Il costo di queste gas, o semplicemente gas fees, fluttua in base alla domanda, quindi maggiore sarà la domanda, maggiore saranno le gas fees da pagare. E dato che Ethereum non ha un modo per risolvere il problema della congestione o di un alto numero di transazioni che avvengono allo stesso momento, le transazioni su Ethereum tendono ad essere lente e costose. Ed è qui che entra in gioco Polygon. Dovete pensare a Polygon come un qualcosa in più, un'aggiunta alla blockchain di Ethereum. Quindi sappiamo che Ethereum sta lottando con tutta una serie di problemi di scalabilità, come la congestione, la lentezza e gli alti costi. Polygon risolve questo problema con le sidechains. Quindi invece di aumentare la capacità dei singoli blocchi sulla blockchain di Ethereum originale, Polygon utilizza i suoi blocchi per distribuire meglio il carico. Quindi abbiamo la main chain Ethereum e la sidechain Polygon. E queste due chain sono separate, ma c'è una cosa chiamata bridge che le collega. Questo bridge può convertire asset da una blockchain all'altra, bloccandoli in una delle due e rendendoli disponibili sull'altra e viceversa. E c'è molta meno congestione sulla sidechain di Polygon, oltre a tutta una serie di meccanismi che rendono le transazioni più veloci ed economiche. E questa è davvero una distinzione di base tra Ethereum e Polygon. Ma adesso vediamo le differenze nel volerle utilizzare per la nostra collezione NFT su OpenSea. Quindi ora sei su OpenSea e stai per effettuare la tua decisione. Quale delle due blockchain scegliere? Vediamo alcune differenze principali. Iniziamo con quella più grande, le gas fees. Ci sono più tipi di gas fees associate all'utilizzo di Ethereum su OpenSea. E sono separate in one-time fees e recurring fees. Ci sono due one-time fees legate ad Ethereum. La prima è una fee di creazione. Quando decidi di vendere un NFT su OpenSea, devi pagare una fee per la creazione della collezione. E il costo di questa fee varia in base al costo delle gas fees in quel momento. Una cifra tra le più basse che potrai trovare sarà quella di circa 130 dollari. Cifra che però, in base all'orario, potrà cambiare soprattutto in aumento. La seconda one-time fee su Ethereum è un Action Approval Fee. Se vuoi mettere all'asta un NFT senza venderlo ad un prezzo specifico, dovrai prima provare l'utilizzo di un token speciale chiamato VETH o Vrapid Ethereum, che alla fine funziona come un semplice Ethereum, ma dovrai scambiare i tuoi Ethereum in Vrapid Ethereum per poter comprare un NFT all'asta. Però, una volta pagata questa gas fees per mettere un NFT all'asta, non dovrai più pagare per tutti quanti gli altri. Quindi queste sono tutte le one-time fee associate all'utilizzo di Ethereum su OpenSea. Ma sfortunatamente non sono che la superficie di tutte quelle gas fees che dovrete pagare. Ci sono infatti moltissime gas fees e ricorrenti che dovrai pagare quando? Trasferirai un NFT, comprerai un NFT, cancellerai un'offerta, accetterai un'offerta, farai il freeze dei metadati e convertirai Ethereum in Vrapid Ethereum e viceversa. Insomma, ci sono tantissime cose che vi faranno pagare delle gas. E queste gas fees non sono basse. Si parla di cifre che vanno tra i 50 e i 200 dollari per una singola transazione. Quindi queste sono le gas fees associate all'utilizzo di Ethereum. Ma invece Polygon? Non ci sono gas fees direttamente collegate all'utilizzo di Polygon su OpenSea. Ma se volete comprare un NFT sulla blockchain di Polygon su OpenSea, dovrete indirettamente pagare delle commissioni. Mi spiego meglio. Se volete comprare un NFT sulla blockchain di Polygon su OpenSea, vedrete che dovete pagare in Ethereum. Ma su OpenSea esistono due tipi di ETH. Ethereum ETH e Polygon ETH. Gli NFT sulla blockchain di Polygon possono essere acquistati esclusivamente con i Polygon ETH. E per ottenere questi Polygon ETH bisogna fare un bridge dalla blockchain di Ethereum a quella di Polygon. E questo bridge potete considerarlo come uno scambio. Ma ovviamente questo scambio costa delle gas fees. Ma comunque si parla di pochi euro di gas fees su Polygon rispetto alle centinaia di euro di gas fees su Ethereum. Tutto questo è fantastico, giusto? Perché non voler pagare sempre meno gas fees e quindi utilizzare sempre Polygon? Vediamo adesso quindi i punti deboli. Polygon è meno sicura di Ethereum. Ovviamente non sto dicendo che non è per nulla sicura e che quindi perderai tutti i tuoi asset sulla blockchain di Polygon. Ma se dobbiamo comparare le due blockchain, Ethereum è nettamente migliore sotto questo punto di vista. Ma il vero grande problema di Polygon è che anche se ultimamente qualcosa sta cambiando, la community NFT tende a essere molto più distaccata e non familiare con la blockchain di Polygon rispetto a quanto lo siano verso quella di Ethereum. Le persone che si avvicinano al mondo degli NFT probabilmente già avranno sentito parlare di Ethereum, mentre la maggior parte di loro non avrà nemmeno mai sentito parlare di Polygon. Quindi se già sai che il pubblico al quale ti rivolgerai con i tuoi NFT è per lo più estraneo a questo mondo, utilizzare Polygon potrebbe non far altro che minare tutto il tuo lavoro, soprattutto se sono NFT con un prezzo di lancio medio-alto. Un altro ostacolo di Polygon a chi è strano a questo mondo e proprio non ne capisce è banalmente anche il fatto che a differenza di Ethereum che è già presente su tutti i portafogli cripto come Metamask, Polygon deve essere aggiunta manualmente e poi bisogna fare quel bridge dai Ethereum e TH ai Polygon e TH. Ed alcuni potrebbero pensare che tutti questi procedimenti siano troppo tecnici ed abbandonare l'idea dell'acquisto di un vostro NFT prima ancora di iniziare. Quindi magari se vuoi comunque creare la tua collezione di NFT su Polygon, crea una guida da fornire a chi lo richiede con la procedura step by step su come fare. E soprattutto preparati a rispondere a tutte quelle domande delle persone che non sono familiari con questo mondo. Quindi ricapitolando. Polygon è preferibile da utilizzare quando prevedi già che ci saranno tantissime transazioni a basso valore, mentre Ethereum è preferibile da utilizzare quando prevedi già che ci saranno meno transazioni ma da un valore molto più alto. Tutto quello che abbiamo visto vale anche se volete creare una collezione di NFT, creando però il vostro smart contract proprietario e non creandoli direttamente da OpenSea. Infatti se li creaste direttamente da OpenSea, vedereste come creatore nello smart contract al punto OpenSea. Mentre se lo creaste con uno smart contract proprietario, sarete effettivamente voi i proprietari di quello smart contract. E se deciderete di creare una collezione di NFT su Ethereum con il vostro smart contract proprietario, dovrete pagare le gas fees del deploy, ovvero del depositare lo smart contract sulla blockchain. Poi però potrete creare una minting d'app, come faccio vedere in questo video, e permettere agli utenti di mintare un vostro NFT direttamente da quella minting d'app. Quindi i vostri costi sarebbero solamente per il deploy dello smart contract, che all'incirca si aggirano su 100 dollari in certi orari della giornata, e poi non ci sarebbero più costi, perché le persone comprerebbero da voi sulla vostra minting d'app, i soldi arriverebbero nel vostro smart contract, e poi potrete prelevarli, come vi faccio vedere in questo video, dove si vede appunto come interagire con la blockchain, ma non ci saranno altre gas fees, perché ognuno che minterà i suoi NFT pagherà le gas fees per sé. E lo stesso vale se volete depositare lo smart contract sulla blockchain di Polygon. Dovrete sempre pagare il costo del deposito di questo smart contract, che si aggira tra i 50 centesimi di dollaro e i 2 dollari, dipende ovviamente dall'orario della giornata, e poi potrete sempre creare una minting d'app, dove le persone potranno andare, mintare i vostri NFT e pagarsi le gas fees. Quindi per voi non ci sarà nessun altro costo. Se siete nuovi al mondo degli NFT, vi consiglio quest'altro video che trovate qui vicino a me. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!